Si riparte con un impegno orientato alla promozione delle marche nell'ambito di una prestigiosa vetrina internazionale del settore vitivinicolo. Con queste parole è stata anticipata la partecipazione della Regione avvenita lì 2019, che vede la presenza di 144 aziende marchigiane e 255 etichette da gustare nella terrazza marche, all'interno dello stand istituzionale. Quest'anno verranno festeggiati i 50 anni della docche del Bianchello del Metauro, confermando una tendenza consolidata negli ultimi anni. Bianchi prodotti di punta, affiancati da 20 denominazioni autoctone della forte identità territoriale, e un biologico in crescita che consolida le marche seconda realtà italiana per incidenza bio sul totale della superficie evitata. Dal 7 al 10 aprile i viticoltori marchigiani saranno presenti alla 53esima edizione della manifestazione, nel padiglione 7, su una superficie espositiva di 2.500 metri quadrati. Ospiterà 71 aziende nella collettiva della Regione Marche. A queste se ne aggiungono altre 69, che hanno fatto la scelta di presentarsi in stand autonomi, avendo ormai acquisito forza e capacità per affrontare questo evento. Abbiamo tanti riconoscimenti che ormai siamo praticamente affermati. Il Verdicchio si sta posizionando bene, come tutti quanti le docche delle Marche. Il Venitele è un'ottima occasione, una grande occasione per mettere in mostra le nostre eccellenze, le nostre particolarità. Uniamo sempre la promozione del territorio, dunque bellissime immagini, un'enoteca con tutti quanti i vini, tutte quante le docche. È un'ottima occasione, specialmente per tante persone che arrivano dall'estero, per far assaggiare le nuove annate, per farci conoscere da chi non ci conosce, per confermarci con chi già ci conosce, con i nostri ottimi vini. Quest'anno è l'anno dopo il Mantelica, dopo il Castelli di Chiesi, quest'anno è il Bianchello, una docche che sta risorgendo, riscoprendo, andando molto bene, stanno lavorando benissimo. Si sta trovando anche una certa coesione tra le cantine, questo è di ottimo auspicio per fare questo compleanno del Bianchello. Stiamo mettendo in campo diversi eventi, diverse manifestazioni, sono sicuro che sarà un successo, un vino che comunque è importante per la regione, un vitigno nostro, un vino nostro, dunque assolutamente dobbiamo dare tutta la massima attenzione e tutta la massima comunicazione e promozione.